Camisani e calzonari è un docchio più plurale. Ci sono moltissimi camisani e moltissimi calzonari che sono nati da un 1.0 all'inizio. Che bella questa cosa che ha detto. Allora, adesso, aspetta, perché me l'ha lanciata senza fare una domanda. Avevo, non so, due o tre anni, no? Qualcosa di più. Però diciamo che era il novant qualcosa e io avevo fatto le mie prime cose online. Tra cui, siccome c'era questo grande problema della regolamentazione dei domini, perché c'era l'ICAN americano che dava domini come se fossero marchi, così, al primo first come, first served, il primo che arrivava li prendeva. Il durale. E questo è sempre legato al maiestatis che mi ha concesso. E praticamente cosa è successo? Che io ho cominciato a registrare marchi, ma non perché, non per domain squatting, era per dire, ehi, serve fare qualcosa. E poi, negli anni successivi, le sentenze hanno poi chiarito la prevalenza del marchio sul dominio e questo è anche il concetto del, guarda che non è tuo. Però c'è stato un momento e tra le cose che avevo registrato c'era anche Coca-Cola. E a un certo punto io, che nessuno aveva mai scritto di me, un giovane ragazzo, c'è, apro panorama e trovo un articolo su di me. Allora mi chiamavo 1.0 perché avevo anche il vezzo di usare uno pseudonimo 1.0 perché la prima versione di ogni software è la parte più piccola dell'informazione. Ancora di 2.0 non si era mai sentito parlare. E un tale Luca De Piasse aveva scritto il primo articolo su di me raccontando questa cosa. E ovviamente, essendo un fine intellettuale, il titolo era Quel ragazzo si è rifatto un nome. Non so se ti ricordavi il titolo. Quindi, in questo momento, per me, essere qua con Luca è, come dire, amore. Proprio, che ne devo fare io, amore. E queste sono cose contagiosi, speriamo che lo sia anche per il nostro pubblico che oggi ha, scusa di essere qua per il libro Cyber Urbanism. Si può dire Ciber o Cyber Urbanism? Come preferisci? Qualunque cosa ti dici, perché c'è un perché dietro? E quindi, anzi, io mi chiedo, come mai hai detto Ciber? Per cui, capito, rifletto anch'io e scriverò un altro libro. Ciber security, si può dire Ciber sicurezza. No, no. Quindi, è una... Quello che tu usi e a me piace, va bene. L'umanesimo, insomma, il tema è un filosofo digitale che si pone di fronte a questa enorme trasformazione cercando di interpretarla, a cavalcarla, aiutarci a viverci in mezzo con prospettive lunghe. Quindi, questi sono gli elementi che ci dobbiamo cercare di dipanare in questa presentazione, sono dove siamo e lo tentiamo come ogni bravo filosofo che si rispetta. Il dove siamo è già importante, voi lo seguite anche nelle sue varie incarnazioni. Punto plurale, è plurale, e quindi anche ci spiega dove ci bregano, come facciamo a difenderci dalle truffe, dagli imbrogli, dalle cose che non si capiscono, ma è solo una parte del ragionamento perché il nostro non è negativo, è positivo, di confronto in modo digitale ci mancherebbe altro. Ha fatto di questo il suo ruolo nella società e farci comprendere meglio per cosa succede è il suo compito. Quindi, fondamentalmente, se noi partiamo da dove siamo, perché ce la veniamo tanto col fatto di restare a mani? A parte che gli umani fanno un sacco di casino, come dire, perché dovremmo rimanere umani. E poi, una volta che abbiamo capito che rimaniamo umani, perché tu pensi che la tecnologia ci faccia essere meno umana? Allora, innanzitutto, le varie attività, compreso l'aiutare le persone a non cadere nelle truffe, fa sempre parte del desiderio di spiegare agli altri quello che un po' sono io, sin da piccolino, con quell'approccio un po' hacker che di base ha dentro una specie di diavoletto che dice sempre ehi, tu devi vincere sulla macchina, no? Cioè, ce l'hai di natura. L'approccio hacker è quello, no? È quello del ti devo far fare quello che voglio io. Quindi, nasce già così. Le persone che cadono nelle truffe o nelle fregature varie, che a volte sono di ogni tipo, da quelle economiche al click, al credere che esistano mondi che non ci sono, nuove hype che non esistono, ne sono passate tante, non le nomino perché sono indifferente, non è il punto della cosa, è un'altra forma di, come dire, no? Di, cioè, essere padroni di questo, capire ed essere, comprendere dove c'è il vero e dove no, vuol dire comunque sempre essere, dominare il digitale, dominare la macchina. E voglio che tutti lo continuino a fare, lo facciano. Cioè, sono anche lì, sono dalla parte dell'uomo. Infatti, spesso magari capita che eri social, eccetera, mi dicono, ah, tu con questa tecnologia. E dico, no, non è che io sono un iper, un tribuno del digitale, io sono uno che vuole davvero, in tutte le attività che ho ritrovato negli anni, mettere l'uomo al centro. Questo lì... Quella cosa c'è? Mettere l'uomo al centro con un platea nel quale le donne sono... L'umanità. È vero, però si usa a volte questo. No, l'umanità, l'umanità. Giustamente, preciso, usiamo le parole come bisogna usare, c'è ragione, l'umanità. E allora, ecco, deve sempre stare davanti. Infatti, l'idea del libro arriva da una persona che dice, ascolta Marco, ma tutte queste cose che hai fatto, no? Ha unito un po' i puntini, ma alla fine hai sempre voluto tenere l'uomo al centro, no? Anche perché raccontava un po' la filosofia del libro, senza che esistesse ancora il libro. Ho detto, wow, allora è da mettere giù per iscritto. E certo, anche perché i puntini, se vuoi... Quindi mi hanno aiutato a unire questi puntini qua. Quindi l'uomo al centro oggi, come mai più che mai? Allora, fino... Durante la rivoluzione digitale, almeno le due che sono passate sino adesso, già abbiamo cominciato a perdere un po' di potere, no? Nel senso che i processi democratici già erano stati inquinati, no? Come umanità, dico. Pensate ai social network più potenti dei presidenti degli Stati Uniti, perché spengono quelli, loro non hanno più modo di essere eletti e quindi di conseguenza ci sono piattaforme che oggi sono più potenti di loro. E poi a un certo punto, quando in questi ultimi anni, perché solo un anno e mezzo fa, già GPT ha reso disponibile a tutti la sua versione del sistema dell'LME, quindi del Large Language Model, che era oggi poi e quello di cui piano piano tutti stiamo parlando, ma nel frattempo stava arrivando questa ondata, quelli del settore, noi lo sapevamo. E quindi sapevo anche che in qualche modo sarebbe stato uno step successivo, cioè se prima potevano degli intermediari potevano inquinare o comunque guidare i processi democratici che in qualche modo ci coinvolgono o le nostre opinioni, con la polarizzazione che poi è avvenuta, con gli algoritmi dei social che ci portavano a pensarla sempre più in un modo o nell'altro, che tendevano a privilegiare contenuti discussi piuttosto che di qualità, e così via, che poi hanno inquinato l'editoria, hanno inquinato un po' tutto, qui addirittura, al posto di passare attraverso l'intermediario, quindi chi avrebbe, nel caso della democrazia, avrebbe rappresentato, nel caso dell'editoria, avrebbe scritto, nel caso dell'editoria, sono arrivati direttamente a scrivere loro. Perché è il segreto di Bulcinella, ma molti studenti usano questo per scrivere direttamente, molti ricercatori utilizzano sistemi come questi per, quindi basati su questa pseudo-intelligenza artificiale, per, poi magari entro più nel dettaglio, per scrivere paper, giornalisti utilizzano quello per scrivere articoli, e quindi se io sono un astronauta, per un modello di quei tipi rimango un astronauta. Peraltro se chiedi, non sono più Marco Camisani Calzolari, quello che faccio, ma divento un astronauta. Nel mondo sarò sempre un astronauta. Forse dovrò iniziare a fare un astronauta perché è più facile cambiare mestiere che non cercare di far cambiare a loro, perché cosa fanno? Prendono i dati che una volta anche lì esistevano, cioè c'erano dati, tu andavi dal garante e dicevi, puoi andare a vedere quello là, come mai c'ha questi dati che non doveva avere o che li tratta in modo inappropriato. Loro cosa fanno? Prendono tutti questi dati ma poi li buttano via, cioè li svuotano, li trasformano in reti neurali per semplificare, in vettori, ma il dato non c'è più. Quindi io sono un astronauta all'interno di meccanismi di reti per cui lì dentro sono un astronauta e loro dicono, guarda, se vuoi posso mettere un filtro esterno che dice che ogni volta che sostituisce il nome con l'astronauta, ma io come fare a far sparire da lì dentro del fatto che tu sia un astronauta non ho la più pari d'idea. Eh, ma io sono. No, ma senti, perché in pratica ci stai dicendo che il sottolineare il bisogno dell'umanesimo nell'epoca della tecnologia della quale stiamo parlando è fondamentalmente un tentativo di mantenerci soggetto, attivo della nostra storia e non subire quello che avviene e cosa che succederebbe se noi non comprendessimo il sistema che si sta creando. È chiaro che la tecnologia è il nostro prodotto e quindi è umana, ma se noi non la comprendiamo genera un sistema così complesso che alla fine ci inluce a subirlo senza la possibilità di guidarlo. E quindi descrivendo questo sistema tu hai sottolineato il fatto che è un sistema per esempio che decide con un suo errore tu sei un'azionata e fai fatica a migliorarti di questa cosa ma più in generale c'è effettivamente l'idea che noi siamo immersi già in intelligenza artificiale complessa che per esempio guida le nostre scelte nei social media con il sistema di raccomandazione che sono del genere artificiale che hanno il loro scopo che hanno la loro identità e che con la nuova udata di CACPT aumenta ulteriormente il suo potere la sua capacità di ingannarci di farci credere cose che poi subiamo e delineano la nostra capacità di essere azionati il punto numero uno è umanesimo nel senso di restare liberi e attori autori di questa il punto è come si fa cioè la prima domanda automatica si ho capito ma come faccio a ottenerlo grazie ma cosa devo fare allora innanzitutto la conoscenza è fondamentale sapere ed essere consapevole di cos'è oggi cosa c'è dietro il muro senza entrare nel tecnico ma almeno sapere come funziona un po' come un'automobile non è che sappiamo tutti i dettagli dell'automobile però sappiamo che ci sono le ruote che sono collegate a un motore che di solito funziona a benzina dei pistoni nel caso delle auto a motore termico cioè delle cose di base le sappiamo quindi se esce del fumo non diciamo aspetta ma beh aspetta perché dentro c'è un motore termico quindi potrebbe essere che bla 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 se buchiamo una gomma sappiamo che è pneumatico quindi dentro c'è dell'aria ci sono delle cose di base che ci permettono di sopravvivere nel rapporto tra noi e un'autovettura in questo momento manca quel tipo di consapevolezza no? perché roba troppo veloce troppo nuova già mancava prima era già veloce quello che c'era prima figuratevi questo allora quindi la consapevolezza ci aiuta a scegliere quante scelte posso operare ma innanzitutto fino a quando siamo in democrazia già possiamo scegliere dei rappresentanti che rappresentino la nostra visione ad esempio di questo mondo perché dietro in questo momento non solo scrivono testi ma accendono e spendono la macchina no? le intelligenze artificiali accendono e spengono la nostra presenza online se decidono che tu hai violato qualche policy le aziende in questo caso attraverso dei sistemi automatici che spesso dietro poi non hanno neanche un umano tu vedi sparire le foto della famiglia di vent'anni perché questo è e allora l'ha deciso un'intelligenza artificiale senza arrivare al giudice che ti condanna che viene vietato ad esempio adesso dall'AI Act europeo e quindi probabilmente sarà adottato questo principio anche da altri paesi ma di base già succede cioè non c'è nemmeno appello quando io provo qualcuno di voi sarà successo di dire no ma aspetta mi appello di là fa in fatica a rispondere non si sa ti dicono anche che non viola le policy e quindi la nostra vita è sempre più attaccata a dei sistemi automatici di pseudo intelligenza artificiale che in qualche modo dobbiamo essere consapevoli anche di cosa sono perché a volte si parla di intelligenza artificiale io uso il termine intelligenza artificiale in tutto il libro ma dichiarando all'inizio che in realtà è un po' errato come termine perché qui stiamo parlando di sistemi che statisticamente utilizzando alla fine l'algebra lineare i vettori cercano di indovinare più o meno ripetendo senza capire nulla delle cose che possono essere testi immagini faccio sempre l'esempio della stufa a gas insomma quella che dove si cucina a gas dove si chiede di disegnartene una spesso fa l'errore di non far corrispondere il numero di fuochi al numero di pomelli perché quella sarebbe un'associazione che non è in grado di fare mette pomelli perché sa che ci sono dei pomelli mette dei fuochi perché sa che ci sono dei fuochi lo fa anche in modo realistico ma non associa le cose e quindi noi spesso stiamo lasciando che bisogna saperlo però lasciando che questa sorta di ripetitore statistico stocastico si occupi di scelte nostre e quindi è questo e peraltro è anche come dire è un momento in cui il large language model con questa pseudo intelligenza sono solo all'inizio perché pare che dietro l'angolo si sa ancora se è un rumor se è realmente così se si sta aspettando ci sia l'intelligenza artificiale generale quella per cui vengono riprodotti i sistemi i meccanismi di apprendimento dell'uomo quindi molto più simili a noi e in cui non c'è bisogno di training pare non si sa se è un rumor eccetera che OpenAI abbia pronto Qstar Q asterisco che appunto dovrebbe essere questa sorta di intelligenza artificiale generale che a quel punto diventerà molto simile a noi e i ragionamenti saranno simili ma per ora non ce l'abbiamo quindi stiamo lasciando che dei sistemi statistici decidano parte della nostra vita quindi più che la consapevolezza vuol dire il nostro potere non c'è perché non possiamo farne a meno le invenzioni non possono essere disinventate non possiamo smettere di utilizzare tutto questo ma saperlo essere consapevole è la chiave questa è la prima la possudenza dei cittadini è la prima difesa fondamentale però ci sono anche altre cose che la società fa per esempio le leggi l'hai accennato per esempio una come dirò una teoria secondo la quale i principi i valori dei progettisti della tecnologia poi si embedano nei loro prodotti c'è un'idea diciamo dei principi delle immagini delle metafole che hanno in mente quelli che hanno fatto le intelligenze provinciali attuali che si è incarnata nei loro prodotti ed è la seguente noi abbiamo visto che fin dall'inizio era un imitation game con Turing quando quella dozzina di scienziati megagalattici si sono riuniti per fare il primo pezzo di ragionamento su quella che loro hanno chiamato intelligenza artificiale 15 giorni prima che io nascessi tanto per dire che non è proprio vi diede questa cosa qua come ho detto dai miei capelli questa cosa che loro facevano l'avevano descritta dicendo noi sappiamo che possiamo descrivere ragionamenti qualsiasi aspetto del pensiero dell'apprendimento di quello che succede nell'attività cognitiva degli umani così precisamente da poterlo replicare e simulare con i calcolatori e quindi lo simuleremo invitazione simulazione questa è un'immagine che ha condotto a quello che noi abbiamo e che Marco ci ha descritto come pagare gli stocastici questo genere e che è tutto nel libro che potete acquistare in ogni libreria e quindi con con il il discorso di se ci sono altri valori altre metà e altre indicazioni vengono fuori altre cose noi potremmo pensare che diventando consapevoli di questo con delle leggi che spingono in questa direzione si vogliono più cercare di imitare gli umani che quindi induce nell'idea di sospituire il progetto ma fare soltanto cose che migliorano le nostre capacità che fanno cose che noi non sappiamo fare perfetto e qui arriviamo anche alla singolarità a quel punto in cui l'intelligenza artificiale è ancora utopico ed è ancora molto distopico ma poco ancora non esiste però si immagina un punto in cui potenzialmente l'intelligenza artificiale diventerà magari più intelligente di noi a livelli che ancora oggi non comprendiamo ma senza arrivare lì tornando almeno sino all'intelligenza artificiale generale i valori di cui parlava Luca chi li inserisce cioè tornando indietro ricordiamo il don't be evil di Google che però si è perso semplicemente non per altro perché i fondatori non sono più lì e quindi adesso sono solo logiche di business con tutto il bene che vogliamo al business ci mancherebbe altro ma sappiamo che hanno obiettivi diversi e quindi un esempio di importanza della nostra consapevolezza nel mondo degli esperti ci si confronta e io ne conosco tanti di esperti non di Valuba che si inventano che dicono che la regolamentazione dell'intelligenza artificiale sia un male ce ne sono tanti e uno dice ma da che parte devo stare perché dicono perché ne limita lo sviluppo lasciamo che la tecnologia cresca e faccia il dia al suo meglio perché dobbiamo imbrigliarla ok e qui anche lì appunto ne parlo di questo allora bisogna scegliere da che parte stare questa già è una divisione una polarizzazione importante cosa dobbiamo fare regolamentare oppure no io sono tra quelli che dicono dobbiamo regolamentarla perché perché è un po' come il traffico spiego le automobili belle in giro ma c'è il codice stradale altrimenti è un guaio bellissima la tecnologia che ci permette di volare ma voliamo sicuri e safe grazie a tutte le regole no le norme eccetera che sono imposte al mondo aeronautico in generale aeroporti un piccolo interruttore deve passare 77 controlli per essere messo su un aereo eppure gli aerei volano e fanno il loro servizio cioè ci tutela quindi in quel caso regole leggi norme codici ci tutelano e io ritengo che sia fondamentale che ciò avvenga perché altrimenti giustamente con l'ottica solo del profitto in fondo poi è così rischiano oggi sistemi che guidano direttamente la nostra vita rischiano di diventare pericolosi quindi anche lì bisognerà decidere da che parte di stare solo la cultura solo la conoscenza si porterà poi a ognuno dirà aspetta poi ci sono questioni internazionali importanti ne parlo parlo di long distance nationalism cioè il fatto che oggi quando si parla di regolamentare tutto questo il problema è che viviamo in un mondo che non è la globalizzazione è un'altra cosa cioè viviamo contemporaneamente in due mondi quello culturalmente fisico della nostra vita delle amicizie che abbiamo fisiche cioè è di quello digitale ovvero dove viviamo lavoriamo vendiamo compriamo amiamo ci influenziamo e allora cosa accade che vi faccio un esempio molto semplice a volte le persone mi scrivono Marco ma è possibile che la polizia non faccia nulla contro quel deep fake contro quella contro la truffa e però pochi si rendono conto che la maggior parte di queste provengono magari da delle strane dei paesi diversamente democratici con dei dittatori che vivono nel loro mondo che però oggi dalla loro piccola penisola possono in italiano perfetto o nelle varie lingue produrre contenuti di disinformazione o fregare soldi o possono fare un buco di cose e tu come li fermi cioè parte la polizia da qua arriva là con la paletta cioè no non riesci non puoi è complicato riusciamo già a malapena con fatica non ce ne accorgiamo tutti i giorni perché è roba poco da telegiornale difendere il perimetro nazionale da attacchi importanti alle nostre centrali alle nostre infrastrutture che funzionano per cui figuratevi quello lì che arriva e va a sparare il deepfake o il cold per cui viviamo su questo doppio livello quindi anche quando regolamenti regolamenti cosa allora dici allora dai Marco siccome sappiamo che il limite è questo lascia stare la regolamentazione lascia aperto tanto non riuscirai però io preferisco uno cola brodo una scola pasta con i fiotti che escono perché continua a uscire l'acqua piuttosto che un tubo dove l'acqua arriva secca decisa e che mi fa negare per cui va bene è una scola pasta me ne rendo conto non si può fermare la disinformazione non si può fermare non si può controllare tutto anche perché poi queste intelligenze artificiali si basano tutte anche se sono mille software apparentemente si basano tutte su sette otto modelli di base foundation mode cioè motori che sono sempre quelli lì perché oggi crearne uno costa decine di miliardi tant'è che in Europa facciamo una gran fatica ad averne uno ed è per quello che tra l'altro poi tu a chiudo il tema della regolamentazione c'è stata anche una grossa tensione non solo tra le persone ma anche internazionale nel dire sul tema soprattutto AI Act quindi l'approvazione di regole o come dire di regolamenti che poi verranno ovviamente adottati dai vari paesi noi tra l'altro stiamo per fare l'Italia in cui uno dice sì ma ci tiriamo la zappa sui piedi cioè stiamo regolamentando quando i buoi sono già scappati cioè quelli hanno già indicizzato tutto hanno già preso tutto e noi diciamo che non si può fare così non lo possiamo fare nemmeno noi è una grande ospettiva ma effettivamente è una delle possibilità perché come appunto vedremo l'AI Act è anche molto grazie soprattutto all'intervento dei francesi che vanno da proteggere Mistral è anche molto facile da usare per le aziende piccole Mistral foundation model europeo francese però piccolismo rispetto ai big è certo c'è una mano alzata sei tu il capo qua c'è una mano alzata una mano alzata noi siccome siamo contrari alle regole vedo Riccardo no prima Marco parlava di una logica di un business ne parli con da voi di Tungor e quant'altro il problema che si spaventa secondo me la gente comune è di pensare su chi potrà gestire da un punto di vista proprio di potere questi e questi sistemi e quello perché le regole di un mercato globale si possono anche creare le abbiamo le abbiamo create è giusto in pratica lei ci sottolinea un punto che è molto interessante per passare al prossimo capitolo e è questo siamo di fronte a una competizione di tecnologie oppure siamo di fronte a una competizione economica di business oppure siamo di fronte a una competizione di potere tra grandi regioni del mondo e siamo di fronte a una competizione soprattutto di potere perché evidentemente insomma come dire per quanto siano tanti miliardi in circolo sono pochi rispetto in fondo a quello che oggi i paesi strategicamente investono per sopravvivere questo è un po' è il punto e immagino che il secondo sia etico vero quello dove stai arrivando tu o sennò volevo passarci io non so io lo devo mi fai inquadrandolo ok vai tu inquadra e io perché avevamo detto dove siamo e abbiamo descritto per quanto ci sia ancora molto da dire però abbiamo capito che noi siamo in un golf tanto facile ma ci sono le cose che possiamo fare e alla fine ce la possiamo fare ma dato dove siamo e questa cosa nel libro che appunto stiamo ovvio qua che serve da spunto per questa conversazione che serve già a fine di questa conversazione che serve dal contesto di questo c'è tutto il passaggio che poi è introdotto dalla questione filosofica del lungo termismo del long termismo e delle varie tra virgolette dottrine filosofiche con le quali si interpreta quello che succederà perché naturalmente il futuro non esiste esistono solo le sue narrazioni e una delle narrazioni è quello che conta non è tanto quello che sta succedendo adesso ma quello che succederà nel prossimo milione di anni perché le persone che vivranno nel prossimo milione di anni sono molte di più di quelle che vivono adesso questo questo assunto che sembra quasi un problema diventa un grande problema che induce a dirci sì e quindi che cosa dobbiamo fare adesso in nome del mondo di queste generazioni future allora questo la risposta sta in tanti libri nel mio provo solo a trovare delle risposte a delle verticalità però sicuramente oggi abbiamo dei long termisti alcuni un po' matterelli come Elon Musk però riesce a ragionare così e altri che come dire sono magari un po' meno matterelli un po' più legati al business che cosa dobbiamo fare dobbiamo soprattutto guardare a lungo termine nel senso che è l'unico modo per affrontare il futuro poi qui si tocca poi il senso della vita cose che non sono all'interno del libro e credo che l'etica perché ce la volevo ficcare dentro che cosa dobbiamo fare credo che l'etica sia centrale e però la seconda il secondo step è quale etica faccio sempre vedere nei miei speech la moral machine che è qualche anno del Massachusetts Institute of Technology in cui mettono a disposizione delle persone la possibilità di scegliere cosa fare in una serie di scenari e c'è l'automobile che si guida da sola nello scenario base come concetto che deve decidere perché è di fronte a questa scelta se ammazzare perché si trova in difficoltà la vecchietta o il bambino e allora lì hanno verificato perché era già nota questa cosa ma è venuta fuori chiara che ad esempio in Asia tendono a salvare l'anziano e in occidente tendiamo a salvare i bambini tendiamo di più ma poi ci sono altri scenari quello dove posso uccidere il conducente però nel conducente però c'è un bambino e allora ogni volta cambia e allora ognuno poi alla fine culturalmente macroscopicamente più microscopicamente ha il proprio approccio etico alle cose e dal momento in cui c'è una sorta di macchina che prende decisioni per noi che noi deleghiamo perché l'uomo aumentato un altro concetto che c'è nel libro cioè l'uomo che utilizza le tecnologie per essere più performante ma non vengono integrate perché quello è il transumanesimo ed è un'altra cosa è un po' contrario quasi alla filosofia che esprimo con il cyberumanismo che sarà necessario perché saremo tutti più saremo tutti aumentati ma è automatico dal momento in cui le tecnologie sono comode veloci semplici a poco basso costo che ci permettono di fare cose in più noi le utilizziamo anche i meno innovatori anche quelli più tradizionalisti tendono poi ad utilizzarli e allora quindi deleghiamo delle pseudo intelligenze artificiali per fare cose per noi ma quando devono prendere delle scelte per noi e vi assicuro che sarà sempre più comune che glielo faremo fare perché ci impigriremo anche su quale base etica lo faranno e allora io immaginavo un futuro in cui ognuno di noi avrà il proprio file etico che verrà integrato e quindi questa è l'idea che mi auspico dove alla fine uno dice sì però la macchina in fondo interpreta un po' quello che voglio essere io perché se ci basiamo sull'etica che in teoria dovrebbero pre-inserire non solo non necessariamente rispecchia la nostra ma poi non è ovviamente uguale per tutti e allora la parte etica attualmente non esiste cioè non c'è in questo momento siamo completamente scevoli cioè non esiste non c'è un insert etico nemmeno non solo personale neanche globale e questo è un problema se non quello comune cioè il foundation model non ha alcuna etica nel fare le scelte la parte interfaccia sì per cui se chiedete a CiaGPT dimmi come creare una bomba in casa CiaGPT ti dice non lo posso fare ma non perché il modello non lo può fare perché l'interfaccia ha un filtro che dice no di non lo fare infatti ci sono sempre tentativi di aggirare e quindi questo è un altro importante punto infatti questo è poi connesso all'andamento della visione di lungo termine perché poi questo tipo di discorso che è come tu ricordi motivato in un movimento culturale di altruismo e di carcere che ci occupa di sviluppare metodi per essere e come l'altruismo è una specie di etica è un frutto comportamentale di un'etica e l'altruismo efficace del quale tu parli è un altruismo pragmatico non ideologico che si basa sui risultati eccetera eccetera e tutto questo in qualche modo il contesto se non sbaglio che ti piace insomma che è positivo pragmatico eccetera ovviamente questo è anche interpretato in maniere molto diverse che hanno delle conseguenze molto gravi sulla nostra vita di guardare a lungo termine come se il futuro fosse necessariamente positivo dei decnautopisti oppure come forse necessariamente negativo come molti appunto disastrovi ci c'era lì il dibattito è filosofico ma pragmatico tu come fai qual è il tuo metodo per entrare in questo dibattito in maniera che abbiamo certo implicato sai tutto questo si traduce una volta si traduceva in bit adesso si traduce in vettori e tra un po' si tradurrà in qubit con i computer quantici e quindi riuscire a schematizzare ad avere la visione dall'altra parte del muro per cui banalmente dico sempre che manca più che l'informatica a scuola la mentalità computazionale insegnata a scuola che serve così come il resto e no non devono diventare tutti i programmatori ma così come non dobbiamo diventare tutti i matematici quando facciamo anni di matematica tra elementari medie e superiori però la studiamo poi ce la dimentichiamo ma non è vero perché in realtà ci ha formato ecco la formazione di quel tipo di mentalità e non c'è poco bisognerebbe aumentare e quindi un modo per interpretare come ne esco come riesco poi a scegliere da che parte stare perché poi la solita divisione non solo catastrofisti e positivisti ma anche che poi è simile a quella del regolamentare non regolamentare come vedete sono tante le scelte da operare personali di fronte a tutto questo e quindi io come faccio cerco di comprenderne i meccanismi che li fanno funzionare e anche se a volte non hai le leve per guidarli tutti perché ovviamente non ho un foundation model in casa da utilizzare per le mie cose però perlomeno ne comprendo dei meccanismi ad esempio banale che deriva semplicemente dal conoscere cosa c'è dietro si parla di regolamentazione quindi diciamo ehi tu open AI ehi tu lama facebook meta ehi tu non puoi fare questo puoi fare questo questo è forse no questo lo puoi fare solo qui e non là e siamo fermi un po' lì almeno io vedo che nella maggior parte del dibattito tocce questo e ci siamo spesso dimenticati che esiste l'open source di questa roba e quindi è lì ne parlo se andate su Hugging Face che è un sito diventato famoso perché raccoglie tutti i modelli di intelligenza artificiale compresi quelli open source soprattutto quelli open source dove con alcuni strumentelli anche uno non proprio altamente informatico è in grado di far funzionare uno di questi modelli localmente e più passeranno i giorni le settimane perché qui non parliamo più di anni e più ci saranno strumentini per poterlo fare in modo facile si può installare localmente uno di questi modelli qua alcuni di questi completamente sbloccati liberi per cui io posso dire ad esempio questo è poco noto posso dire ehi open AI abbiamo fatto l'AI act che infatti nell'AI act io ho insistito moltissimo durante la discussione non ero a Bruxelles ma da fuori rompevo le scatole via Twitter e dicevo ehi ma scusate open source si adesso poi ti dico e alla fine non è venuto fuori un granché sull'open source è stato quasi lasciato lì perché in effetti è un problema gigantesco cioè da una parte è un'opportunità io sono sempre stato un fautore un sostenitore del mondo open source perché per quello che significava fino all'altro giorno e oggi comincio a pormi delle domande anch'io perché ad esempio produrre immagini di terzi che li vedono in situazioni imbarazzanti è un reato e non solo è un reato se lo fai ma per di più queste piattaforme ti impediscono di farlo perché ovviamente hanno il famoso filtro ma localmente fai quello che vuoi cioè io posso anche puoi anche vietare ai big di farmi fare il deep fake di Biden tornando ad una cosa più civile come esempio ma localmente io faccio quello che mi pare localmente posso veramente fargli creare così come oggi le intelligenze artificiali in medicina ci stanno aiutando a scoprire nuove cure che nemmeno avevamo immaginato che potessero esistere probabilmente la famosa bomba da fare in casa con un sistema con un modello open source in casa posso progettare bombe che non erano mai state pensate prima o distruzione dell'umanità che non era mai stata pensata prima e quindi l'open source è completamente come dire libero da questo punto di vista per cui anche lì sapere questa differenza è banale no? che si può fare? si può mica cancellare non si può disinventare però sapere che si va bene al di là quindi magari qualcuno sostiene fortemente la voglia di regolamentazione di regole di cose e poi dice non sa che invece con tre clic localmente puoi fare tutto quello che ti pare e quindi allora per tornare a dove siamo quindi le scelte che noi compiamo adesso che avranno le conseguenze sul lungo termine e sul breve e sulla nostra vita di domani domani proprio domani come tu ti alleni come ti abbevi l'informazione che approccio suggerisci a tutti noi per restare critici attivi e indigenicamente sani in questo mondo abbastanza qui sapete noi ormai l'informazione è one to one di persona cioè voi siete sicuri che noi siamo qua e stiamo dicendo quello che stiamo dicendo perché ci state guardando e sarà sempre più raro avere questa opportunità tant'è che di nuovo la fisicità che è sempre stata come dire nel frattempo abbiamo imparato a fare le cose a distanza e digitalmente sta già riacquisendo un forte valore nelle relazioni umane capiamo che c'è una forte differenza forse perché non abbiamo non sappiamo ancora bene quante possono essere quante sono le interazioni che forse non conosciamo neanche sino in fondo tra umani fisiche quello che poi state percependo ora non è paragonabile a quello che potete percepire di quello che ci siamo detti fino adesso digitalmente ma soprattutto il grande step è che tutto può essere falsificato e può essere falsificato ad un livello estremamente realistico e piano piano stiamo imparando perché un po' come credo di aver fatto l'esempio che nel libro un po' come il fratello Illumiere sì l'ho fatto dove che quando si dice poi era in realtà una fake ma che nella sala fossero scappati tutti quando il treno arrivava in realtà poi era stata una notizia falsa per far parlare di quello pensate il paradosso e in realtà anche noi le prime immagini dell'intelligenza artificiale adesso incominciamo a vedere un po' perché sappiamo che nelle prime versioni le mani non venivano bene e poi perché ci sono quelle particolarmente colorate che sono tipiche di avete il presente di un modello e le riconosciamo subito ah l'intelligenza artificiale e poi quando vediamo alcune immagini le riconosciamo subito fino ad arrivare a non capire più e adesso sarà così addirittura a pensare che immagini vere siano false il fotografo che ci ha messo vent'anni per riuscire a beccare su superga la foto della luna si è beccato una marea di commenti dicendo che le sue foto in realtà erano false e questo è stato lì analogico fisico con il rullino a fare quella foto e allora come si fa dal momento in cui sono rarissime queste occasioni nella nostra dieta informativa e la maggior parte delle volte è tutto digitale e quindi è un po' di tecnica quindi non informarsi banalmente solo attraverso il social network come fa l'80-90% delle persone banalmente andare a rivalutare la come dire l'autorevolezza delle fonti no la reputazione delle fonti perché alla fine ci si deve basare su questo è un po' di nuovo come gli rapporti personali la reputazione di una persona è più importante poi di quanto io mi fido perché ha un'altra reputazione quindi questa è la fonte quale fonte e in questo momento aiuterebbe anche tanto i produttori di contenuti che in questo momento a volte sono costretti ad abbassare la loro qualità per fare i numeri e sopravvivere invece sarebbe molto meglio se rimanessero là in alto e quindi ad esempio io utilizzo molto i feed RSS abbandonati da tutti che vuol dire ogni sito ha un dietro nella maggior parte dei casi ha un rubino che è una specie di spina da cui può andare a prendere l'informazione pura cioè l'immagine il test senza tutta la grafichina del singolo contenuto e dove che fa male ovviamente a chi vende pubblicità ci mancherebbe però fa bene a me che mi devo informare e dove sostanzialmente riesco ad avere con un software di lettura i contenuti dei singoli delle singole categorie aggregati e quindi quello è un modo in cui mi informo oltre ovviamente ad andare nei siti dei più autorevoli dopodiché un'altra cosa quindi già da lì mi sono scelto le fonti e le leggo velocemente tutte insieme un'altra forma è quella del frequentare molto gruppi Reddit Quora andare a raccogliere informazioni lì dove a volte si annidano soprattutto nelle nostre verticalità io la mia ognuno di voi ha la propria si annidano delle grandi verità e delle cose molto molto interessanti ci sono grandi discussioni e questa è la mia dieta mediatica che mi aiuta non so se può essere l'ispirazione a qualcuno con il massimo dell'ipotesia questo è il momento della domanda che abbiamo per l'ultimo minuto se forse se per caso è imbarazzante imbarazzante ha usato cio di pt a scrivere scolta no perché non potevo fare la figuraccia di essere beccato a scriverlo con cio di pt quindi però mi sono fatto aiutare esatto ho usato l'ama che l'altro no mi sono fatto però aiutare nel senso che ci sono stati dei momenti in cui ho detto ascolta ma soprattutto nella bibliografia no dici ma questi concetti qua mi aiuti a ricordare chi altro se ne era e mi ha aiutato in questo no strumenti verticali però proprio la scritta anche perché anche lì a proposito del treno si vede cioè ogni tre frasi dice inoltre no e che fai la scrittura creativa per ora rimarrà tale nella punta dell'iceberg perché il sotto è completamente portato via da questi sistemi per cui è così come l'avvocato sotto è portato via però quello cioè la lettera di diffida e la scrive c'è il GPT cioè l'avvocato aumentato quindi c'è l'avvocato che verifica che sia giusto quello che scrive però poi gliene scrive cento a differenza di quello che poteva fare prima e lo scrittore è effettivamente via il traduttore via il doppiatore via massivamente poi c'è là sopra la punta bisogna secondo me cercare di collocarsi là e piano piano poi succederà c'è un tema globale di occupazione però io non posso risolvere e nemmeno pensare quasi a come risolverlo ma adesso io suggerirei ogni singolo elevati vai lassù e specializzati e soprattutto anzi usa cioè una slide che uso spesso nei miei speech è i primi a essere sostituiti dall'intelligenza artificiale saranno quelli che non utilizzano l'intelligenza artificiale per fare queste giornate bene grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti